Andiamo al segno della bilancia, inizia il mese del vostro compleanno, avete una grande energia, avete un giove già bellissimo nel vostro segno, la fortuna è tutta dalla vostra parte, l'amore è fantastico in questa giornata, attenzione solamente ai nuovi progetti che partono in questo giorno perché la luna nel segno dei gemelli, in pessimo aspetto con Mercurio e Saturno, potrebbe provocare degli imprevisti dell'ultimo momento anche a livello burocratico, legale. Andiamo al segno dello scorpio.